Yes! Ho fatto la exit, ho venduto l'azienda e son diventato milionario! Nel senso che ero multimilionario in dollari ma poi caos ai mercati azionari e l'essere diventato CEO di me stesso, ora sono soltanto milionario. Ma torniamo al titolo, ho venduto la mia azienda. No, non parlo di NFT chain, ho ancora le quote, non è neanche mia, lasciamo perdere. Ho venduto a grazia cognome, la mia sole proprietorship. Per quanti soldi? A chi l'hai venduta? A chi l'ho venduta? L'ho venduta alla Retire in Progress GmbA, all'altra mia azienda. L'unica azienda che mi è rimasta. Che poi non è che l'ho proprio venduta, non è che uno si vende una partita IVA, la grazia cognome era una specie di partita IVA. Ho solo ricollocato le attività della grazia cognome all'interno del contenitore Retire in Progress GmbA. Sì, ma che vorrì? In poche parole ho detto a YouTube, ad Amazon, a Interactive Brokers, ad altri partner, che adesso sono un'azienda e non più un individuo. Ok, troppa confusione. Ho fatto dei diagrammini semplici semplici. Guardate, questa è la situazione fino a giugno 2023. Le entrate di Giorgio Cognome, qui rappresentato da Rip Funghetto, vengono da tre sorgenti diverse. Numero uno, investimenti finanziari. Dividendi. Sì, lo so, per me sono Income, non rompete i coglioni. Secondo, lavoro come content creator. Quindi pubblicità su YouTube, subscription su Twitch, affiliation, ad esempio Interactive Brokers, qualche donazione ed altre piccole entrate. Terzo, lo stipendio che mi pagavo come dipendente della Retire in Progress GmbA, la mia società a responsabilità limitata, di cui sono anche socio unico. Il lavoro come content creator era un po' la mia side gig, il mio lavoro secondario, e per questo avevo aperto una sole proprietorship, una ditta individuale, una specie di partita IVA in Svizzera, col nome Grazie a Cognome. In Svizzera c'è l'obbligo di avere il proprio cognome nel nome delle sole proprietorship e dopo un duro ballottaggio con Attaccatevi a Cognome, Grazie a Cognome l'ha spuntata. Le attività della Rip GmbA fino a giugno 2023 erano coaching privato che offrivo in career development, personal finance e mock software interview, trovate più informazioni su emeredo trip slash services e soprattutto IT consulting per NFT chain, ma non solo, c'erano anche un altro paio di customer piccolini. Ma il cliente più voluminoso era ovviamente NFT chain. La freccia eventually dollar 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 che va da NFT chain a Giorgio sta a indicare che Giorgio avrebbe potuto ricevere qualche profitto, qualche provento, qualche dividendo in quanto anche azionista di NFT chain, non soltanto consultant. Esatto, il numero di simboli dollaro indica più o meno l'impatto economico di quella relazione. E no, non c'è una scala del tipo che ogni simbolo dollaro vale, è una roba più logaritmica, è una cosa, ma che cazzo vuoi? Fine giugno 2023 e puff, NFT chain viene risucchiata in un buco nero. Per chi vuole maggiori informazioni ho fatto un video a riguardo. E la mia azienda, la Rip GmbA, rimane un po' zop, anche se ha costi operativi piuttosto bassi, le entrate non ci sono. Mi riduco lo stipendio, non mi sono ancora pagato luglio, agosto, forse non mi pagherò neanche settembre, ma sono tutti in accounting. Che poi me li ridai, eh? Che poi me li ridai. Voglio gestire il cash flow della società in modo intelligente e non mandarla in rosso sul conto corrente, che qui ho sostenuto costi un po' significativi tra studio, hardware, che cazzo. Però la domanda a questo punto sorge spontanea. Perché tenere la GmbA in piedi? Chiudila, no? Beh, la GmbA è un'azienda vera, la GAU non scalala. Sopra 100k di fatturato poi devi registrarla, registro di commercio, scattano obblighi IVA, un po' come il regime forfettario in Italia. A un certo punto diventa stretto. E poi con la GmbA posso assumermi, versare secondo pilastro pensionistico. Certo c'è un po' di inefficienza fiscale, con qualche doppia tassazione, corporate tax al 20%, ma tanto non si fanno tanti profitti tranquilli. Ma in ogni caso è un'azienda vera. Se devo scalare, se devo uscire dalla mentalità da artigiano e diventare un vero imprenditore, bisogna dire addio alla Grazia Cognome. Addio Grazia Cognome. Insegna gli angeli a trollare nelle fatture alle aziende americane. Quindi ora ho solo un'azienda, la mia vera azienda, la mia unica azienda, la mia start-up, la Retiring Progress GmbA, che si occuperà di tutto, eh? Tutto quello che faceva prima la Grazia Cognome e molto, molto in più. È come se non bastasse in questo periodo in cui le mie entrate non coprono neanche le mie spese, anzi, non so proprio entrate, qui non mi pagano dalla GmbA, non mi pagano, non mi pagano dalla GmbA. Pagate se stipendi a retrati, voglio gli straordinari di giugno, luglio, agosto. Ho preso anche un ufficio nuovo e dai con altri mille al mese più utilities. Ho mandato le bimbe al nido due giorni a settimana. René, ma secondo te io sono... pazzo? È una qualità, è una qualità. Io sono più vicino ai 50 che ai 40, con tre figlie piccole nella nazione più cara del mondo. Sei pazzo, sei pazzo. A voglia, sei pazzo. Senza la parziale libertà finanziaria che mi sono costruito in questi anni, adesso dovrei cercare un lavoro vero oppure trasferirmi da qualche altra parte. Invece posso permettermi di provarci e vedere che succede. E questo mi rende molto orgoglioso. Sarebbe stato un vero peccato chiudere tutto. Chiudi tutto, biascica! Quindi che succede ora? Parlando con mia moglie ci siamo detti diamoci un paio d'anni di tempo. Proviamo a fare azienda sul serio. Se non si raggiunge la sostenibilità giriamo l'attentato. Boom! È esplosa la clinica. Oh! Ha fatto clic. O si torna in Italia in vero early retirement oppure si cerca un lavoro vero qua in Svizzera. Se invece il progetto va bene e c'è sostenibilità economica per la nostra famiglia beh, questo scenario si scrive da sé. Ho idee già per i prossimi cinque anni. Lascia perdere. Di questi argomenti e di molto altro ne ho parlato già in un precedente video che vi linko qui. Ciao ragazzi! Rip is out! E goodbye! Grazie a cognome! Grazie a tutti!